Ciao ragazzi sono Nick, come vedete noi i video editoriali li facciamo in macchina però li facciamo diciamo in una maniera corretta vediamo il nostro Roberto Sabatino che guida Guido, guido, due mani Capite i messaggi neanche fin troppo velati al direttore Mario Moroni Va bene noi stiamo andando insomma incontro a una nuova puntata di Ok Goal io più che altro mi sto per preparare diciamo fisicamente e mentalmente alle partite che poi andremo a svolgere Roberto invece è già pronto quindi lui Roberto sensazioni pre-puntata, vuoi raccontare come andrà questa puntata di Ok Goal? Sarà scoppiettante come sempre, grandi ospiti, avremo Clarence Seedorf in collegamento e Gian Piero Galeazzi Ci non mancherà E vabbè insomma quindi ragazzi buon divertimento a tutti, Andrea per favore auto inquadrati Oh questo sì che è un vero team di Ok Goal Che team Tu stai attento alla strada mi raccomando Soprattutto Comunque non piove Già è una cosa buona L'acqua c'è, ce l'abbiamo l'acqua L'acqua c'è, l'acqua è qui L'acqua è qui quindi Quindi bene Va bene, poi vi racconteremo come sarà andata la partita Si parla di un Passoni Sabatino, Nick e Roby contro Freddi Fornaroli e contro Mario Moroni Quindi Che volano legamenti crociati che si spezzano Chissà se vinceremo anche noi l'Ok Goal Spulli ci ha quotato perdenti, mi raccomando Fate altre tante Non si volete guadagnare Roberto Guida Ciao a tutti Ciao Ciao Ciao